Calendario ricco di eventi in città per la celebrazione della giornata mondiale della donna. Si parte dal mattino in piazza d'Italia alle 9 con la manifestazione organizzata all'unità operativa complessa di nefrologia, i reni e la salute delle donne che in collaborazione con i vigili del fuoco allestirà una tenda all'interno della quale il personale medico-infermieristico effettuerà degli screening gratuiti fino alle 18. Alla stessa ora andrà in scena Palazzo Ducale, dopo i lavori del Consiglio, lo spettacolo Le ragazze sono partite, tratte dal romanzo di Giacomo Mamelli interpretato da Daniela Cossiga e Antonella Masera, diretto da Sante Maurizzi, una pièce promossa dalla Commissione Pari Opportunità che racconta il viaggio verso Roma della Sardegna di tre domestiche per prestare servizio presso alcune famiglie benestanti. In contemporanea sempre alle 18, presso la biblioteca universitaria, l'associazione culturale Madonne presenta 8 maggio e oltre, un dibattito sulla difficile tutela delle donne vittime di violenza. Tra i relatori l'avvocato Martina Pina e la giornalista Vanna Lisa Manca. Chiude la serata il concerto del Women Ensemble. Anche il Polo Museale della Sardegna ha previsto un evento per celebrare la giornata internazionale delle donne, dalle 17.30 alle 19, nella sala conferenze del Museo Nazionale Archeologico e Etnografico Giovanni Antonio Sanna. È stato organizzato infatti un incontro con la tesitrice Adriana Pintus dal titolo Frutto del telaio, il ruolo della tesitrice fra tradizione e avanguardia. Per l'occasione la tesitrice consegnerà un arazzo realizzato esclusivamente per il museo.